questo logo lo riconoscete vero ghostbusters ma siamo in minecraft e questa è una mappa musicale creata dal mitico h3 andiamo subito a a sentire quindi la colonna sonora la parte la canzone di ghostbusters insomma che tutti conosciamo i sì oh cavoli non sono in creativa facciamo subito in mode creative e vai si starta non ancora così pronti via bellissimo che figata grande minchia come se l'è studiata sta mappa grande un grande grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.